Abbiamo ospitato in FEM una delegazione francese dei colleghi dell'Istituto della Vita e del Vino di Bordeaux per discutere dei temi della viticoltura e dell'enologia che affliggono l'intera Europa. L'obiettivo è di costituire una collaborazione continua e specifica su questi temi in modo tale che si possano mettere insieme le forze delle due istituzioni e creare una massa critica per risolvere e per analizzare prima, per risolvere i temi della viticoltura e dell'enologia che tanto sono importanti nella costituzione di un'agricoltura sostenibile. Questi temi sono così impellenti che richiedono molte forze e che richiedono di evitare competizioni ma più che altro complementarietà. E' in questo senso che la collaborazione tra FEM, San Michele e Ladice e la nostra storia può portare in collegamento con un'altrettanto istituzione così piena di storia che è l'Istituto della Vita e del Vino di Bordeaux che affronta gli stessi temi di FEM e su questo noi dobbiamo essere puntuali, specifici e risolutivi. Grazie